direttivo Lega Sandini-Brendier, direttivo del Lazio. Buonasera Santori e ben ritrovati. Buonasera, buonasera. Ha scritto anche un libro di cui Carlo Scuola. Dobbiamo fare in tempi record. Sicuramente prima, usciamo con il candidato sindaco, prima abbiamo il tempo di poter esprimere tutta la nostra potenzialità per questa città e dare risposte ai cittadini che dal centro-destra si attendono perché molti romani delusi, prima dal Movimento 5 Stelle, prima dal centro-sinistra e ancora prima, dobbiamo dirlo, dal PDL, ora aspettano un nuovo centro-destra per questa città. Quindi noi dobbiamo offrire da una parte un programma serio, credibile, concreto che sappia dare risposte in tempi brevi e dall'altra un candidato sindaco per entrare nel cuore dei romani. Tutto questo, come si parla sempre di... un candidato, questo candidato che può essere uomo o donna, è in una fase di valutazione. Io non posso dire altro perché chiaramente rispetta a un tavolo nazionale importante su cui stanno lavorando direttamente i nostri leader e quindi vi posso parlare delle idee, del programma, Oseglie di Salvini ha espresso, ha fatto un comunicato molto duro contro la Raggi che condivido chiaramente, di cui ha detto che la città è totalmente disastrata, che servono persone competenti, che la Lega ha idee chiare sia sul programma, che ha detto anche sul candidato sindaco. Ripeto, sono temati che attengono direttamente i nostri leader, quindi io... Beh, un nome se ce lo vuole dare, noi siamo qua, però io vado avanti, non c'è un scherzo, con Santori che conosco da anni.